ciao amici mi chiamo fedez vi faccio vedere casa mia dopo avervi mostrato gli addominali questo è il mio guardaroba delle scarpe questi sono i miei vestiti posso scegliere quali mettere c'è un po di tecnologia lì ho testato instagram tv pure io e se qualcuno volesse vedere il risultato l'ho caricato